Due minuti con Nini. La convivenza tra Victor e Nini prosegue molto bene. Che bello stare qui e cenare insieme. Sì. Mentre dall'altro lato della città qualcuno prende decisioni importanti. Nini, non esiste più per me. Ecco, bravo, devi essere irremovibile. Dove sei, Nini? Ma no, è inutile fingere, ambasciatore. Se ti manca vai a cercarla. Nini. Così Tomassi inizia di nuovo a non capire più niente ed accetta la solita proposta di matrimonio. Tu mi stai proponendo di... Sì, sì, Tomassi, ti sto proponendo di sposarci. D'altronde Selina le ha provate tutte per poterlo convincere di nuovo. Tanto da rendere casuale la scoperta che Cecilia è anche sua figlia. La figlia che mi è stata strappata via non è altra che Cecilia, la figlia di Tomassi. Ma quali sono le prove? Se voi guardate la bambina la moltiplicate per il perimetro, cioè al quadrato o cose del genere. Ah, sì, sì, tutto chiaro. Ma intanto, 3, 2, 1, si dà il via alla gara di Selina per la conquista di Cecilia, di suo padre, e per entrare a far parte della famiglia, ci riuscirà? Ti interessa? Sembrava non ti importasse. Da questa famiglia, invece, Martin si è allontanato, ma... Bel modo di trovare la mia indipendenza, fantastico! Ma a casa c'è sempre qualcuno ad accoglierlo. Siate il mio sostegno. Io credo gliene serva parecchio per fronteggiare le insidie dell'amore. Carla! Stasera, dici? Sì, certo. Qualcosa non quadra. Che cosa ci fa lui qui? È uno scherzo della nostra amica Carla. Ehi, dove stai andando? Io sono già in armonia, e dato che a voi manca parecchio, me ne vado. Divertitevi, ragazzi! Aspetta! Ma che fai? Ci lasci qua? Carla! Io terrei gli occhi aperti, non mi fiderei molto. Ho bisogno che sia tutto sgombro il prima possibile, ok? Che cosa fa con quell'uomo? Non lo so. L'importante è sapere esattamente che si provano gli stessi sentimenti. Ti amo, Thomas. Ti amo. Ti odio. Sei di malumore oggi, vero? Sono in arrivo grosse novità. Scopritele nei nuovi episodi di Nini. Da lunedì al venerdì alle 20 e 5 a Disney Channel.